Ciao a tutti amici cooperiani ben tornati Ben tornati Siamo con il nostro nero di fiducia E niente siamo su State of Decay Come avevo detto Siamo raggiunto di tanti voti sinceramente E in diversi volevano la serie In diversi video così a caso E penso di strutturare i video In missioni forse Non lo so vediamo un po' Magari datemi qualche consiglio Che cosa vuoi? Ok va bene E vi volevo dire che Domani per voi spero sia domani Per oggi dovrebbe essere sabato per voi Sono a Bologna a risvilupparti insieme a Fraus, allenato e max E insomma se magari Siete di lì e volete passare Siamo là Dalla mattina fino al pomeriggio E E niente Credo che ah no c'è altre cose Come sempre in descrizione dovrete tutti i link Quindi facebook Discord e anche il telegram Perché ho fatto un telegram per parlare tutti quanti insieme E io spero vivamente che questo gioco vada come Insomma ve lo guardate come guardate Tarkov Perché come dico sempre Tarkov mi sto un po' rompendo le palle Davvero E niente Allora Dobbiamo discutere con Chad Di come salvare Ehm Ehm Di come salvare Daila Quindi Ehm Ciao Ciao Sporla tua base in 3 gesto Sì va bene Allora ho tipo giocato Poco Sinceramente Allora qui la cura Ok devo andare da quella lì E quindi Eh Allora Vediamo Qui ci sono cose da costruire Bene le strutture Che devo costruire Una medica Un'infermeria Cura la piega del sangue Costo Mi mancano Tipo i cosi Mi manca tutto Giustamente Allora Vediamo Qua ci hanno chiamato Mi sembra Armadietto Ah scorte Lo zaino che stai portando Non entra nell'armadietto E le scorte Portalo al deposito Ok Allora tutti gli oggetti Ah i colpi sicuramente Ah c'è troppa roba Scusami Ah lo voglio equipaggiare Oh Quindi posso prendere questi Ottimo Questo che cos'è Tazza di caffè So che Se Comunque vediamo un po' Quello che devo fare E niente Ci vediamo Allora Signoraccia Sì ok va bene Ho capito lo zaino E allora Senza un infermiere La piega del sangue Ucciderà Dai la puoi cercare Il materiale per le costruzioni Di un inquinto Ora ho visto una stazione radio Da qui dovresti avere Una buona visuale Ok tornerò appena possibile Perfetto Quindi ringrazio la stazione radio Per fare un sopralluogo Della zona Allora io Devo mettere Questo zaino Ecco qua Ok Gestisci deposito Perfetto E Poi ce n'ho un altro Che madonna No quanto forte Ok Ce n'era un altro Da quella parte Che avevo lasciato C'ho giocato mezz'ora Eccola anche così Obiettivo sbloccato Yeee Allora Ah già Oh perché è rimasto Ok Credo che Forse Se lo avete notato Ho cambiato Un po' Le impostazioni Del microfono Quindi Forse mi sentite meglio Non lo so Ditemi un po' voi Che ho Scaricato Voi smiter Banana Quindi ho impostato tutto Ho smadonato un po' Per impostarlo Ma ce l'ho fatta Allora Non devo andare assolutamente Dove sto andando adesso Ma eccolo qua Quindi Rendilo Anche se ci ho giocato mezz'ora Mi sta piacendo questo gioco Sono sincero Quindi spero di riuscirlo a portare Il più spesso Possibile nel canale Quindi Fatemelo sapere Ricordo Ok Allora abbiamo portato Quello Un altro deposito Di quelli Ok E niente Quindi ora raggiungiamo La stazione Quanto è lontana È questa Sì Ok Dai andiamo Andiamo Ma salve Ma salve Nica Madonna Ce l'ho fatta saltare In aria Comunque Allora ci siamo Praticamente Allora Vediamo Oh Pezzi di circuito Ah Non lo posso portare Cazzo Questo cos'è Beh Queste cose le potrei Lasciare Là Sinceramente Beh Sì perché ho bisogno Di roba Vediamo se Qua Ok Non mi fa entrare Vado a depositare Le cose Ok Allora Per chi non lo sapesse E vediamo se riesco A spiegarlo bene State of Decay Praticamente È un Survival Con Ok cos'è Aspettate Ah Potenziale Avamposto Fornisce Bonus morale E crea Con cibo Espresso Ok Ok quindi devo Ok va bene E Dicevo Praticamente Un Classico Survival Dove ti devi Prendere Risorse Eccetera Però Lo possiamo Chiamare Gestionale Perché Noi dobbiamo Gestire La nostra Tribù Tra virgolette Noi l'abbiamo Il nostro Accampamento E dobbiamo Migliorarlo Posso fare Qualsiasi Cosa E quindi Insomma Diciamo Possiamo Prenderlo Donna Ancora No Sì E quindi Lo prendiamo Come un Survival Gestionale O con Missione Quindi comunque La sua Storia Ce l'ha Io ho giocato Un po' Al primo Ma avevo Un pc Che non Me lo reggeva Benissimo Quindi ci ho giocato Un po' Male Però diciamo Mi sono divertito Comunque Rotolo Di moquette Risorsa Materiali Perfetto Sette Atrezzature Elettrica Boombox Una radio Portale Programmata Per mettere Sua Naturalmente Quando viene Attivata Resta Attivata Per molto Tempo Per Meglo Batterina Ok E un tubo Potrà servire Cioè Quindi dovrò Fare su Dovrò fare Su e giù Ogni volta Che cos'è Eh si Dovrò fare Su e giù Ogni volta Cazzo Cazzo Mi sento Uno E sopra No Ok Allora Si va a depositare Si ritorna qui E un avanti e indietro Spero di trovare Armi Spero Ok Mi ha messo anche questo Abilità e strutture avanzate Tutti sono in grado di costruire strutture semplici come l'infermiere Per le strutture più avanzate Fondamenti ti serviranno invece Le servizioni di unità speciali Ok Cercherete una delle sopravvissate Per raggiungere questa L'uomo Perfetto Ispezione in colo Selezionando la zona Dal punto più alto Nel notore La tua mappa Si riempie di icone Ah Dei luoghi Ok Usa le informazioni raccolte Per prendere le spedizioni Ricerche Con questo Avevamo posti Guns Ok Ok E qua io posso Sei telezzature elettriche Sì Deposito Sbagliato Deposito 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 Questo ce l'otteniamo Questo quando ce l'abbiamo Ok Via Perfetto E quindi si ritornava Da questa avanti indietro Ok Allora Siamo tornati qua E teoreticamente ci manca Questa cassa Ah con Oh Risorsa del munizioni Comunque Fatemelo sapere Se vi piacciono Ah Ora abbiamo i materiali Che c'erano Cominciano Ok Ditemi poi se vi piacciono Questi tipi Di video Di state of decay Perché magari Li porto Di più Insomma Magari due video a settimana Iniziamo a farne un po' Su escape Sì Su state of decay Apri la schermata base Ora Madonna Così alta Perfetto Quindi Prendi la mira Per entrare in modalità Sopra al luogo A B Ok Aspetta E una cassa Che cosa ci trova Ah Ottimo Ok Così funziona E la madonna Ok Credo che abbiamo visto tutto No quello Ok Allora Sono i bovini Ammasso infetto Ok Allora Ok Rambino Rambino Che ci servono Cominciare a costruire Quell'infermeria Va bene Ho capito Ora ce l'andiamo a fare Sta infermeria Con calma Con calma Tanto non credo Che muoia Rompipalle Dai Andiamo Ok Dove la facciamo La nostra infermeria Tipo Qui O ce la facciamo Dietro L'infermeria Lì No Dietro voglio farci Tipo Le raccolte Di cose Magari L'infermeria La facciamo Qui davanti Almeno Non so Se qualcuno Sta male Viene A curarsi Subito Qua Non lo so E' la prima cosa Mi è venuta in mente Costruisci Perfetto Oddio Ehm Non voglio finire di mettere in piedi L'infermeria Nel frattempo Guardiamo Possiamo usare La radio Per organizzare La ricerca Delle cose Che ci servono Avvicina Verretro Il tuo veicolo E premi E Ok Usare la propria radio Ciascun superte Porta con sé Una radio Che puoi utilizzare Per richiedere il supporto esterno Se ti serve una risorsa O una recluta Puoi utilizzare La radio Per localizzarle Alcune sopravvistute Offrono comandi radio Che guariscono Riforniscono Fanno più Overe morte E distruzioni Ok Quindi Cerca rifornimenti Nei luoghi vicini Finchè la costruzione In fermeria Non sarà completa Prendi rifornimenti Il tuo veicolo Abbandonato Se porti Una tannica Di benzina Potrai riempirla Ok Quindi sono opzionali Noi facciamo anche Gli opzionali Quindi Ok Ho buttato Un po' Di munizie Muttiamo via Questa roba Quindi Là dove ci fa andare Ah qua il nostro veicolo Ah no Curare i malati Ok È diventata notte Madonna Non si può tipo Dormire O qualcosa del genere Vieni qua Vada Madonna Ok Qua dove sono già stato Allora Teoricamente Qua Si trova qualcosa Credo Eh teoricamente Ok Sì Dietro Qui Munizioni Buono Ci faccio le munizioni Ok Lì c'è Uno stronzone Di quelli Bruzi Cazzivi Quindi magari Andiamo di qua Piano piano Ok Ok Doveva essere Stealth Ma ce l'abbiamo fatto Anche senza fare uno Stealth E mi sembra di aver finito Le munizioni Grande Ok teoricamente Madonna One shot Oh lo posso occupare Ah no Me ne servono 300 Ottimo così Allora Ricerchiamo Un po' veloce Ogni tanto Nella speranza di non fare bordello Scatole di semi Ci serviranno Assolutamente Più avanti Altre scatole di semi Poi nel banco da lavoro Cosa ci possiamo trovare Altre scatole di semi Ah risorsa cibo Ok Torneremo sicuramente A prenderla Però lì noi abbiamo La nostra missioncina Madonna quanto è buio Ma la torcia fa qualcosa Quanto devo andare lontano Scusa Ok ci siamo quasi Eccolo lì Che poi perché L'abbiamo lasciata qui A piedi non potevamo andare Aspetta però è vero Non ho preso una tannica di benzina Apri i baule Ah beh sì Scorte ci sono Però non posso riempirla Eh no Mi serve una tannica di benzina Dove la prende Una tannica di benzina Allora qua cosa si può trovare Ok ricambi Dietro queste Niente Di Nieni qua Qua si trova qualcosina Questa non è una tannica Madonna Ma tipo Vai alla pompa di benzina Apri la bocca Ti metti la benzina in bocca E poi lo riempi così Ci sono delle tende Di solito le tende Hanno qualcosa di interessante Vediamo se riesco a fare Lo stelt Mamma mia Che Snake mi fa una pippa No Perché Scusami Funziona davvero così Che anche se gli sono davanti Questo non si accorge di me No 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 Ti mi moro Stardo Allora Vediamo che ci può trovare qua Uh Equipaggio assolutamente Lo zaino un po' più grande Ok Azione completata Perfetto B apri la schermata base Che cosa fa Ah vedi l'attività della comunità Vedi maggiore informazione Sforza lavoro Popolazione Spazio piccolo Probabilmente recuperato La salute Rimozione di trauma Infezioni Cura la piega del sangue Fabbrica bende Cura per la piega Stabilizza la piega del sangue Fabbrica oggetti medici Aiuto Questo Devo fare questo E anche lo devo fare A lei Sì c'è solo lei Ok Perfetto Con la roba che cos'è Ehi Salve Perfetto Cosa vuoi Cosa ci sono superstite Combattimento Tiro Caratteristiche Non si sa Vediamo se posso L'attività di Cosa ci serve Un'attività In clave di Esseri umani La frontiera abitata Tante piccole cavi Sarei fessi umani Se le terapie Poi entrare Le parti Neh Ok Ah Ignorare Ok Perfetto E non lo so Te che cos'hai per me Vediamo Aha Armi Non ne hai Va bene Guarda che bel fucile Hai uno scar L'hai copiato da fortnite Ok Allora Se posso entrare da te Che cos'è Ok Ma non è che io ho rubato qualcosa No Ok Va bene Perfetto Allora niente Madonna quanto è buio Spero che vediate qualcosa Io intanto me ne torno Lì a fare le mie cose Dai Ok Uh per aprire il pannello Personaggio Ok Che cosa Ah posso specializzare Su combattimento Preparazione atletica Più 28 salute Massimo Ok Io voglio fare questo Nel combattimento Uh Autono Uh Ok Armi da taglio Maggiore Letalità con le armi da taglio Attacco Spazzata Sblocca Ok Dai Le armi da taglio Sblocca Ma non lo so Mouse x sinistro Più quello Ok Grande Quindi se faccio Ok Quindi tipo Posso correre addosso E uno E fare così Ok Grande Ok Allora Cosa ho appena fatto Ho riportato Ho riportato qui Le scorte Quelle che avevo E non è che ne ho tantissime Sinceramente Eh Ho posato un po' di cose Per farmi spazio Nell'inventario Che palle Che palle che queste Non si possono spostare E radio Ah ok E Sono andato qua sotto Che insomma avete visto Appena Ho riattaccato Eh Ho messo un letto Quindi teoricamente Poi posso dormire Quindi tra mezz'ora E così poi Diventerebbe giorno E non devo aspettare Quindi Sarà Buio Almeno che io non aspetto Il giorno da solo Dannazione Ok Rieccoci qua Ho aspettato un pochettino Cioè ho giocato un po' Ho portato un po' di risorse Ho preso tutte quelle Che c'erano nella macchina Quelle che avevo lasciato Di cibo E portarle all'accampamento E sono venuto qua In attesa Che diventasse un po' giorno Quindi dovevo finire Di lottare Questo pusticino Ok Mi serve 250 Per occuparlo Ricerchiamo un po' In questa borsa Ho fatto due volte Bordello Mentre cercavo E quindi sono venuti Tutti gli Zumboni Da me E allora Sono venuto qua Perché quella cosa gialla È un Un coso Come si chiama Era una clinica abbandonata Quindi non è male Allora Cazzo Merda Perfetto Così quello non urla Perché quello urla E rompe il cazzo E ho trovato Un'ascia nuova E un'altra pistola Magari direi Giusto per provarla Di equipaggiarla Questo è madonna Che rimane Ok Ah le enclave Hanno 9 oggetti In vendita Vediamo Madonna Pam 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 Madonna Ucciso tutti Grande Ok però mi voglio Tenere Sinceramente Questa Ma quella è militare Eh Che elmetto Via Quell'elmetto Ok Nostardo Ok credo che Abbiamo luttato Il luttabile Ecco ora si fa Ordello Ok Voglio ricercare qua Se c'è qualcosa Di interessante Ok Scatole Di reagenti Chimici Ok Però il problema Io sono pieno Quindi porto le cose Madonna che palle Porto le cose E torno di qua Ok intanto che ci siamo Vi voglio far vedere Cosa sto facendo qui Allora come prima Avevo già fatto Il letto però Per sbaglio L'ho annullato E quindi l'ho dovuto Far iniziare da capo Poi qui Sto mettendo Il raccoglitore Di acqua piovana Che manca poco L'inferberia L'avevo già fatto Non so se ve l'ho fatta Vedere Com'è Ve la faccio vedere Adesso Che è messa È così E poi che lo diventi Più figo Una volta che la miglioriamo Comunque Niente Voglio farvi vedere Un po' Che cosa abbiamo fatto Ok Rieccoci tornati qua Allora Io Finisco di luttare Quale cosine Perché qui c'erano Le scatole Di reagenti chimici Che Sicuramente Mi serviranno Affanculo Ah Giardinaggio Ok Risorse per giardinaggio Ah L'avamposto Non Non me lo posso permettere Ok Basta Oggetti Eh Questa è La mossa nuova Che se tengo shift e click Fa così Quindi Niente male Fa un bordello di male Ok Spero di trovare cose utili Se ci sono Risorse medicinali Sicuramente Prendo quelle Visto che ne ho bisogno E lascio qua un attimo Quello giardinaggio Ecco infatti Come detto Aspetta Non lo posso prendere Però questo lo posso Posare E Posso prendere questo Perfetto Poi vediamo se c'è altro Peccato che non ho la macchina Mi sarebbe servita tantissimo Ma Ho provato a prendere una tannica di benzina Ma non me la faceva tirare su Non capisco come mai Quindi Quindi niente Speravo di trovare di più Sinceramente Però questo sicuramente si potrà prendere Più avanti perché è utile Perché fornisce Fornitura Di medicinali Al giorno Scambio di personali L'avamposto Si è armadetto Le scuole L'avamposto Delle scuole Area sicure L'avamposto Quindi Non è affatto male Quindi Mi dispiace per la festa È distrutto Un'infestazione Ah mi dispiace Madonna Un'infestazione Perché è una festa E dai Queste cose Allora Riporto le cose E andiamo a vedere Un po' che cosa c'è in là Sperando che Non so a quanto siamo Perché io sono Tipo un'ora Di registrazione 58 minuti Potrei fare Almeno una sola Ma un po' di giro Non mi piace Ah ok Qualcuna vigilanza Bisogna Cerca l'icona Sulla tua mappa Da vedere in culo Al mondo Sulla mia mappa Eccola qui Ok E infatti dove volevo andare Ah perfetto Quindi poso queste cose E ci rivediamo lì E le va Fa un culo Ogni volta Attraverso Lo scavalco E Stavo dicendo Spero che non diventi lunghissimo Questo video Sinceramente Non lo voglio far durare Più di mezz'ora Magari sta durando Già più di mezz'ora Però sto facendo Un botto di tagli Davvero un botto di tagli Allora visto che devo Sprecare un po' di munizio Scusa Perché Adesso Quei tre Oh Almeno adesso C'ho uno spazzettino Ah Vabbè dai Adesso ho uno slot in meno Per Per le altre cose Che mi son tenuto Gli oggettini Allora Tu Muori Perfetto Così Quindi andiamo ad andare Di qua Che bellino però Lo zainetto rosa Allora Eh Vaffanculo Comunque Mi sta piacendo Una pistola nuova Che non fa mai schifo Vedere Utilizza pure Le stesse munizioni Wow Se non mi sbaglio No Non utilizza le stesse munizioni Invece si Cono Ah no 9 mm Interessante Allora mi tengo questa Perché insomma Allora Vediamo un po' Sito sicuro Ok Ci sarà cosa Roba Qualcosa di interessante Qui Risorse potenziali Munizioni Ok Altre armi Cose Non male Altre munizioni Non sarebbe male Trovare Armi migliori Tipo AR Tipo Qui fornisce scorte Di munizioni Ok Cazzo Che Allora quella valuta C'è la cosa Di cui avremo bisogno Viaggia Come passeggero Questa la posso prendere Cazzo Kit di riparazione Necessario E ce lo facciamo Il kit di riparazione Te muori Ok Allora Dicevamo che Diamo a sto punto Un'aiuto a quella Poi questa zona Me la lutto Tutta E spero Nel prossimo video Insomma Spero che Il prossimo video Sarà di nuovo Di State of Decay Quindi magari Ditemi sotto Nei commenti Di nuovo Che cosa ne pensate Già Mi sono dimenticato Ah è da questa Perciera Mi parla Abbiamo risposto Donna che se questi Mi colpiscono Ah Mi serve Mi serve Ci proveremo A non prendere La febbre E volevo Dire una cosa Che non ho detto Inizio video E spero Che sia arrivato Fino alla fine Insomma Fino alla fine Fino a questo punto Qualcuno ci sia arrivato E volevo fare una cosa Tipo Ask Qualcosa Insomma Se mi chiedete Fate domande Io vi rispondo E volevo Chiamarlo Il question Il question Normale Insomma Il classico questions Ma Scritto Proprio come Cooper Ma c'è C-O-O Westions Westion E quindi è un po' come Questions Si dice nello stesso modo Scritto È diverso È ganso È ganso Questo gioco di parole Quindi scrivete Hashtag questions È la domanda che vi interessa Ho già fatto questo Su facebook E E niente Qualcuno mi ha fatto Qualche domanda Però volevo racimonarne Un po' di più Allora Questa la voglio chiudere Assolutamente Parla con Stark Ando qua Di qua Ok Ciao Ciao Buena suerte Amigo Ah ci pensi te Vai donna Che cos'hai Una katana Che cazzo hai Allora Abbonati tu fretta Alla baracca in legno Dove vi Ho lasciato il modulo 870 Dannata Ah dannato Ok Se mi dai una mano Ti ricompenserò Certo ci sto Perfetto Sarò la tua ombra Vai con Stark Alla baracca in legno E questo vecchio nascondiglio E sapete cosa Questa la facciamo Nel prossimo video No sto scherzando Vi prendevo per il culo Vedere che cosa dicevate Comunque andiamo Allora Ma sti sti cazzi Sto video Dore a quasi 50 minuti Cercherò di tagliarlo Il più possibile Allora Vai con Stark La baracca in legno Il suo vecchio nascondiglio Si ok Però qual è Ah C'è vero Ce l'ho scritto lì Ce l'ho lì in arancione Che sbadatino Ma cosa No Andiamo a fare la missione Sti cazzi Cioè Quanto è lontano Eh lì vicino Dai Ci metto il punto Almeno vedo i metri Eh 140 metri Dai ci si fa easy Ah ma è Ha tipo un cruchi Hai Un cruchi enorme Ok dai Tanto siamo qua Ia L'ho fatto triggerare questo Si Assolutamente Guarda Cioè Lei E' andata dall'altra parte Per uccidere sto zombie Mentre sto zombie Stava venendo di qua Un genio Un genio Del male Comunque credo che poi A sto punto Visto che Lei ce la portiamo in giro Diventerà nostra amica E io Merda Merda Si è rotta l'arma Merda Dai 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 Merda la mia resistenza Dai Eh Badonna questo Ti Questo Che cazzo di combo Che cazzo di combo Che ho appena fatto Tutto a posto Dai dai Tutto a posto Tutto a posto Non è successo niente Badonna che bordello Vediamo Ok si Però dove lo metto Scusami Dove 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 Che cosa butto Ah La tannica di benzina Tornerò sicuramente dopo E di cosa Vabbè Allora Un casino Eh vabbè Eh vabbè Spada taglia erba Eh Alza Muori Dai non ho fatto niente Madonna Il mio Omino qui è stanchissimo Però cioè Siamo qua E non possiamo fare Altro Allora Che abbiamo detto La sua cosa non c'è Eh Spada taglia erba I don't care Ah Stazione di saldatura Ok Va bene Lo troverò qui Un fucile Nel cavetto No Madonna non so Come tenerlo poi Se me lo dà a me Cioè se tipo Mi ricompensa con quello È un casino Esatto E Che cosa butto Questo Uno dai Per uno Cazzo Cazzo Ah Mi lo devo dare Uffa Parla coltà riguardo alla possibilità di unireste alla tua comunità Ah Certo Resta con noi Torno a casa con la nuova recluta Ok Però perché mi hai droppato O me l'ha date lei Scusami Non ci capisco più nulla Te Allora Ti levi dai coglioni Fanculo Allora Io devo prendere questo Oh Vediamo qui Perché Se mi dà una tannica di benzina Io la porto alla macchina Yee Yee Dove Quanto ce l'abbiamo distante La macchina Ah no E dall'altra E qua su Allora niente Vabbè la porto dopo Dai Comunque Niente Abbiamo fatto questa missione Abbiamo aiutato lei Quindi abbiamo una nuova superstite E E noi Insomma Avevamo un nuovo fucile Che Non c'è più E quindi niente Dai Io spero che non sia durato tantissimo Se Così fosse Vo E spero vi sia piaciuto Spero che Ringrazio quelli che sono arrivati Fino alla fine E spero che il gioco vi piaccia Che vi interessi se io lo porto più spesso Perché Ripeto Nuovamente Il gioco mi ha Escape Mi ha un po' stancato E ditemi comunque se vi piace Le impostazioni del microfono Perché a me piacciono molto E quindi Quindi niente Dai io Vi ringrazio per la visione Ci vediamo al prossimo video E alla prossima Ciao ciao Ciao